La sicurezza è importante, si sa, soprattutto se si tratta del Presidente degli Stati Uniti, l'uomo più importante del mondo, Barack Obama. Roma sta aspettando la visita del Presidente USA blindatissima. Obama atterrerà all'aeroporto di Fiumicino nella serata di mercoledì, mentre il giovedì incontrerà Papa Francesco Napolitano e infine Matteo Renzi. Dopo gli incontri diplomatici si concederà una visita guidata al Colosseo. Il Presidente statunitense sarà scortato da oltre mille agenti e la mobilitazione delle forze dell'ordine sarà totale in città. Controlli a tappeto a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore statunitense, dove alloggerà Obama. Unità cinofili e artificieri mobilitati in tutta la città, massima vigilanza nei luoghi in cui transiterà il Presidente USA. Agenti speciali hanno scandagliato il corso del Tevere e zone rosse saranno istituite in Vaticano, al Quirinale e a Villa Madama. Anche via dei fori imperiali sarà off-limizi fino alla sera di giovedì. Diveti di sosta sulle strade, chiusura del traffico e sospensione delle fermate di autobus e tram nelle zone in cui transiterà la delegazione del Presidente statunitense. Sarà vietato inoltre il traffico aereo sulla capitale e il controllo sul Presidente sarà effettuato anche con l'occhio del satellite. Misure imponenti di sicurezza, dunque, che si protrarranno fino a venerdì, giorno in cui il Presidente lascerà la capitale per far ritorno negli Stati Uniti.